Siamo con la senatrice Scopelliti, commentiamo queste lettere a Francesca di Enzo Tortora, un dramma umano profondo, incommensurabile per la ingiustizia subita. Cosa traspariva da quelle lettere, in quei messaggi? Tutto quello che era il suo mondo in quel momento, che era un mondo fatto di dolore, di grande sofferenza, di incredulità, lui non capiva il perché era lì chiuso in questa cella di Regina Celi insieme ad altri sette disgraziati. Non capiva questo mondo di criminalità, di camorra che gli cadeva addosso quando lui, me lo dice nelle lettere, ho un passato talmente limpido dove la mia probità, la mia onestà culturale e morale vengono messe in discussione, vengono messe alla berlina. Quindi sono lettere davvero che raccontano anche di amore perché sono scritte alla persona amata e soprattutto perché poi erano l'unico nostro rapporto. Io non avevo titoli per andare a trovarlo in carcere e quindi queste lettere servivano proprio a riunirci, a ricordare a quant'altro. Però erano anche lettere di sofferenza, di indignazione, di rabbia, di incredulità, ma nello stesso tempo anche di battaglia. Lui non si è mai arreso, non ha mai chinato la testa e diceva ci vuole ben altro che un esercito di pulcinella per abbattermi. Innanzitutto c'è da riflettere su un fatto, la giustizia può diventare improvvisamente un tritacarne. Beh, lui usò questo termine proprio per dare esattamente l'immagine di che cosa fa una mala giustizia, un tritacarne, dove una persona pervene viene resa in poltiglia. E qui mi è caro fare questa considerazione alla quale molti non pensano. Quando a un errore giudiziario si rimedia poi con una soluzione, beh tutti sono pronti a dire... Non si dà lo stesso rilievo con cui si è sbattuto il mostro in prima pagina. ...i mezzi di informazione, ma nella vita della persona non è che giustizia è fatta, perché quell'errore giudiziario rimane come un marchio a vita. Cioè la vita si rivoluziona come uno che subisce uno tsunami, dove poi può togliere le scorie, i pezzetti di legno che sono... Ma dentro, nell'io, quello tsunami rimarrà per tutta la vita. In lui c'era il timore che quella giustizia in cui confidava non sarebbe stata possibile dimostrarla? La delusione di Enzo era doppia, perché Enzo era proprio un vecchio signore liberale dell'Ottocento, che credeva nelle istituzioni. Lui si commuoveva al passaggio della fanfara dei bersaglieri, si commuoveva quando faceva la trasmissione, che era questo portobello dei buoni sentimenti, lui ci credeva davvero. Quindi quando poi ha capito che invece poteva succedere una cosa di questo tipo, gli è caduto il mondo addosso e non avrebbe mai immaginato che l'Italia arrivasse a questo punto. Quindi la sua delusione è stata enorme. Alla delusione si aggiunge poi l'incredulità quando si accorge che non è tanto un errore giudiziario, ma che lui viene arrestato senza prove, senza un riscontro, senza nulla, solo sulla parola dei pentiti e anche questi pentiti senza verifiche. E lì, come dire, avviene proprio la caccia al Tortora, che doveva essere colpevole a tutti i costi. Una giustizia sana, dopo il primo interrogatorio, avrebbe detto ci scusi, abbiamo sbagliato. Con Tortora hanno cominciato a cercare le prove per riconoscerlo colpevole. La barbarie di portarlo in aula ammanettato, neanche fosse il totorina della situazione? Beh, ma anche l'arresto, con quello show, l'uscita dalla caserma in Selci dei Carabinieri. Io ero piccolo, ma quel 17 giugno, venerdì 17 giugno, non passò inosservato. Addirittura aspettare l'ora sindacale degli operatori della RAI, quindi alle 11, in modo da poterlo riprendere e mettere la macchina, il cellulare della Polizia Penitenziaria, a una distanza tale da consentirgli questa passeggiata della vergogna. La cosa però fa pensare come se ci fosse un qualcosa di precostituito. Il semplice errore giudiziario, per quanto da criticare, da censurare, non presuppone ovviamente una parata in pompa magna. Evidentemente forse c'era qualcos'altro. Lui doveva essere il capro espiatorio chissà di che cosa. Il discorso qui si fa un po' lungo, ma sintetizzando, è chiaro che il Maxi Blitz è nato per un'esigenza locale. La prima esigenza era quella di rispondere a Palermo e all'inchiesta che stava portando avanti con grande successo Giovanni Falcone insieme al pentito Buscetta. Successo che viene riconosciuto dalle sentenze. Ma accanto a questo desiderio di emulare Palermo, di un momento anche di credine della criminalità organizzata, io non penso che il nome di Tortora sia stato stabilito a Tabolino. Diciamo che c'è stata quell'occasione della lettera riferita ai centrini che erano stati mandati a Portobello e di questo pentito pandico che fa il nome di Tortora. Ecco perché io dico, in un primo momento si può anche parlare di errore, ma quando dopo il primo interrogatorio si scopre che le lettere parlavano di centrini e non di droga e che le 800.000 lire erano riferite al rimborso dei centrini persi negli studi di Portobello e non a una partita non pagata di droga, dei magistrati onesti avrebbero dovuto dire signor Tortora ci scusi abbiamo sbagliato. E invece lì inizia il crimine, perché quello di Tortora è stato un crimine giudiziario. Per concludere, lui rientra vittorioso negli studi di Portobello dove eravamo rimasti, la frase mitica, storica. Ma quell'Enzo Tortora che è uscito non è stato più lo stesso. Assolutamente, ma bene il suo rapporto diretto con lui come l'ha trovato? A parte il fatto che Enzo Tortora è morto di mala giustizia, quando lui disse mi è scoppiata dentro una bomba al cobalto, non era altro che quel tumore che poi lo ha portato via il 18 maggio dell'88, quindi non era più lo stesso perché non l'avevano toccato nell'animo, nello spirito di uomo per bene, ma lo hanno toccato nel corpo. E avere un paese democratico, uno stato di diritto in cui si muove, di mala giustizia, credo che non solo non sia accettabile, ma dovrebbe davvero farci indignare.